Tutto è partito dalle segnalazioni di alcune mogli insospettite per le frequenti uscite serali dei mariti e per le sottrazioni sempre più consistenti di denaro dal bilancio familiare. I carabinieri della stazione di Fossato di Vico hanno così concentrato le proprie attenzioni su un night di Osteria del Gatto, i controlli e gli accertamenti hanno permesso ai militari di ricostruire come i clienti desiderosi di avere incontri a sfondo sessuale potessero contare sulla disponibilità di molte ragazze presenti nel locale che offrivano le proprie prestazioni sia nel privé sia al di fuori dello stesso. Mesi di indagine che hanno portato all'arresto del gestore del locale, ora i domiciliari, per l'uomo un gualdese di 37 anni, l'accusa è risfruttamento e favoreggiamento della prostituzione. Altre cinque persone, tra cui camerieri e buttafuori del locale, sono implicate a vario titolo nella vicenda. Il night è stato sequestrato dopo un sopralluogo anche dei reparti speciali dell'ispettorato del lavoro e dei naassi, i quali, oltre a contestare contravvenzioni per un totale di circa 10.000 euro, hanno rilevato omissioni contributive verso IMSS, EMPALS e INAIL. Le cifre pagate al gestore per questo tipo di servizi hanno sottolineato il comandante della compagnia di Gubbio Zago e quello della stazione di fossato di Vico Zeni, potevano raggiungere anche i 350 euro, cifre che vanno aggiunte ai regali e ai compensi alle ragazze. Gli interrogatori dei clienti delle ballerine, per la maggior parte provenienti dall'est Europa, hanno portato gli inquirenti a ritenere che fosse il titolare a incoraggiare le dipendenti a essere disponibili anche attraverso pressioni psicologiche e minacce di licenziamento e contemporaneamente era lui a indirizzare le scelte dei clienti sulle ragazze più accondiscendenti. L'operazione Bocca di Rosa dei militari della compagnia di Gubbio è scattata nel fine settimana. All'interno del locale sono state trovate oltre 15 ballerine e altrettanti clienti, tutti del posto di età compresa tra i 35 e i 65 anni. All'arrivo dei militari alcuni avrebbero chiesto la possibilità di attendere nel locale la fine dell'operazione per proseguire la serata. Taglia certamente è anche emerso come alcuni clienti arrivassero a pagare al gestore la consumazione delle ragazze per evitare che frequentassero altri clienti. Le indagini, fanno sapere i militari della compagnia di Gubbio, non sono ancora concluse.